Ma io avrei invitato, io non ti ho invitato, ma non dovevo mica venire tuo fratello, quello grande per i suoi amici? Eh, bello, tra i miei bannoggi sono una fantasta. Anche abbiamo un fratellino, che è? Però mi direi posso stare qua giù alla notte? Ma c'è più giubbia! Non mi scopre se c'è la notte. No, no, no. Beh, se volete parlare, va bene, fa un pezzo di pò che vuoi. Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi. In la zona della mia, più forte ci darà, ma guarda di bene, poi se sei qui. Di tutto questo. Grazie. 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 con il tempo, con gioco e fantasia, coloro l'anidità Oh, ma dove è stato? Stai a dove è stato il caso? Ci riamo in tanti, non è adesso Allora, su, sono scherzato Ciao, e tu chi sei? Chi sei tu? Salma! Ciao! Guarda la soltare, non mi ci dai Ragazze, stai a Luana Ciao, ciao Ciao, io sono Alessandro Ho capito Grazie Ragazzi, altro giro? Qui ci vuole il pezzo giusto Vai Dani, io lo vedo Hier il hanno il nostro corso Da gioca Qui ci vuole il pezzo Ed игры Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.